Il percorso di guarire Un trasloco, un nuovo lavoro, un fidanzato, una gravidanza, fare sesso, il successo, qualcosa, sistemerà il dolore che portiamo dentro. Invece di vivere così acquisiamo padronanza su noi stessi, riflettiamo, ci confrontiamo, confessiamo, cortiviamo sane relazioni, viviamo in modo sano e santo, permettiamo che Gesù arrivi in cantina. Quindi il percorso continua. Scegliamo di vivere bene e di continuare a guarire giorno dopo giorno. Dall'altra parte, oggi parleremo di un passo chiave, la cosa che volevo lasciare per la fine. Perdonare e benedire tutte le persone che ti hanno ferito. Fa paura, sembra un passo da gigante, ma vogliamo permettere che la guarigione di Cristo arrivi a tutte le aree della nostra vita. Immagina chi possiamo essere. Non portare più rancore nel cuore. Lasciare andare il cinismo. Rimuovere il filtro negativo che ti fa prendere le cose sul personale. Poter contemplare la bellezza del mondo di nuovo. Diventare persone libere e leggere che si sono svincolate dagli errori degli altri e dei propri. Essere persone gratte e allegre che fanno dissipare il cielo di nuvole e vivono con la luce di Dio. Essere persone che amano e benedicono. Che non riproducono il male, ma che fanno del bene. Noi possiamo essere queste persone. Tu puoi essere questa persona. Di più puoi essere lo strumento usato da Dio per redimere la storia della tua famiglia. Quindi diciamo è oggi. Ci facciamo il coraggio e scegliamo di essere queste persone oggi. Ok? Una parentesi prima di andare avanti. Alcuni di noi hanno subito cose grandi. Cose serie. E forse non senti che il momento di pensare al perdono sia arrivato per te ancora. Forse. Va bene. Continuare a camminare. Forse magari un percorso con qualcuno che possa aiutarti. Che sia un pastore, che sia un consulente, che sia un psicologo cristiano. Che puoi aiutare a continuare a elaborare e guarire. Potrà aiutarti per un giorno arrivare al perdono. Ok? Volevo riconoscere questa cosa. Se non ti senti pronto, vieni a parlare con noi. Intanto adesso riprendiamo. Oggi concluderemo con la storia della famiglia che stiamo seguendo. Della Genesi. Dopo generazioni di predilezioni, rivalità e tradimenti, la famiglia di Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe finisce bene. Grazie al perdono e alla riconciliazione. Finiscono con una famiglia unita che fa del bene a tanta gente e da cui proviene Gesù. Questo accade attraverso la vita di Giuseppe, un figlio che assorbe le varie cose, i peccati tramandati da generazioni. Era il figlio prediletto di Giacobbe, così come Giacobbe era il figlio prediletto di Rebeca. Il suo marito, Isacco, era il figlio prediletto di Abramo e Sara. E' tradito e venduto come schiavo dai fratelli, così come suo padre, Giacobbe, e suo zio, Esau, si erano scontrati. E anche come il fratellastro di nono Isacco, Ismaele, era stato ripudiato e mandato via. Quindi accade tutto questo. Giuseppe era un ragazzo pieno di sogni, ma è vittima di tutto questo e finisce come uno schiavo in Egitto. In Egitto è vittima di ulteriori ingiustizie. Viene accusato del falso e finisce in prigione. Poi interpreta il sogno di un compagno in prigione, ma questo uomo lo dimentica. E Giuseppe trascorre lunghi anni in prigione. Dal prediletto del padre, che aveva un futuro promettente, passa a essere un carcerato. dimenticato da tutti, in un paese straniero, per anni, a causa dei suoi fratelli, di un trattamento in famiglia. Immagina il suo rancore, la sua giusta rabbia. Ma una persona non si era dimenticata di Giuseppe. Dio. Il Dio che aveva scelto di benedire quella famiglia, usa tutto quel male per compiere il bene. Nella vita di Giuseppe, nella sua famiglia e in quell'intera generazione. Dopo anni di prigione, Giuseppe viene richiamato, viene chiamato a interpretare dei sogni del faraone. Prevede che ci sarebbero stati sette anni di abbondanza e sette anni di carestia. Il faraone lo incarica, allora, del governo del paese e della raccolta del grano, negli anni di abbondanza, per provvedere agli anni di carestia. E così, in pochi giorni, Giuseppe passa da essere un detenuto a essere il governatore della nazione più potente dell'epoca. Si sente vendicato da Dio, no? Ha il rispetto della gente, finalmente. Usa quel potere per bene. Si sposa. Ha dei figli, che per lui significano una grande svolta. Leggo questa parte. Giuseppe chiamò il primo genito, Manasse, perché disse Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione. Giuseppe raggiunge l'apice del successo, ma questo non significa che sia arrivato. Sotto lo splendore del presente giace il buio del passato. Le cose che vuole dimenticare. L'afflizione è la casa di suo padre. Ma dimenticare non è la soluzione. La soluzione è redimere. Quindi Dio non si è contento di dargli un presente prospero. Lo fa rincontrare i fratelli che avevano distrutto la sua vita. Gli fa affrontare il passato, così potrà avere un futuro ancora migliore. Ecco, leggo questa parte. Giacobbe, il padre, seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli, perché è stata a guardarvi l'un l'altro? Poi disse, ecco, ho sentito dire che c'è grano in Egitto. Scendete là a comprarli, così vivremo e non moriremo. Così dieci dei fratelli di Giuseppe scesero in Egitto per comprarvi il grano. Ora Giuseppe era colui che comandava nel paese. Era lui che vendeva il grano a tutta la gente del paese. I fratelli di Giuseppe vennero e si inchinarono davanti a lui con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma si comportò come un estraneo davanti a loro e parlò loro aspramente dicendo, da dove venite? Essi risposero, dal paese di Canaan per comprare dei vivri. Giuseppe riconobbe i suoi fratelli, ma essi non riconobbero lui. E così inizia un periodo molto travagliato per Giuseppe. Non li perdona subito, risponde aspramente. Mostra che il perdono non è facile. È un processo travagliato. Giuseppe è combattuto e accusa i fratelli di essere delle spie. Ecco, Giuseppe si ricordò dei sogni che aveva avuto riguardo a loro e disse, voi siete delle spie. Siete venuti per vedere luoghi indifesi del paese. E disse a lui, no, mio signore, i tuoi servi sono venuti a comprare dei vivri. Siamo tutti figli di uno stesso uomo. Siamo gente sincera. I tuoi servi non sono delle spie. Ma egli disse, no, siete venuti per vedere i luoghi indifesi del paese. Ecco, e quelli risposero, noi, i tuoi servi, siamo dodici fratelli, figli di uno stesso uomo del paese di Canaan. Ecco, il più giovane è oggi con il nostro padre. E uno, Giuseppe, non è più. E Giuseppe disse loro, la cosa è come vi ho detto, siete delle spie. Ecco come sarete messi alla prova. Per la vita del faraone non uscirete di qui, fintanto che non sarà arrivato il vostro fratello più giovane. Giuseppe li trattene per alcuni giorni. Poi cambia idea. Invece di trattenere tutti, mentre uno di loro va a prendere Beniamino, il fratellino, permette a tutti di tornare, mentre uno di loro rimane in Egitto. Quindi è combattuto. Vuole fare del bene, vuole fare del male, non sa cosa fare. Ecco, continuo. Allora si dicevano l'uno all'altro. Sì, noi fummo colpevoli verso il nostro fratello, già che vedemmo la sua angoscia quando egli ci supplicava, ma non gli dimmo ascolto. Ecco perché ci viene addosso questa angoscia. Ruben, il primo genito, rispose loro, non ve lo dicevo io, non commettete questo peccato contro il ragazzo, ma voi non volesse darmi ascolto. Perciò, ecco, il suo sangue ci è ridomandato. Ora, essi non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro c'era un interprete, ed egli si allontanò da loro e pianze. Il perdono non è facile. Abbiamo tante emozioni, Giuseppe si allontana e piange. Abbiamo tanti miti in riguardo il perdono. Per esempio, il perdono dovrebbe essere facile. No, è difficile. Dobbiamo perdonare subito. A volte riusciamo a farlo. A volte ci vuole del tempo, come per Giuseppe. Oppure, perdonare è condonare o approvare azioni scorrette. No, questo è scusare, essere complici. Perdonare è in verità dichiarare un'azione scorretta. E dire, scelgo di non vendicarmi e farti del male. Ma questo non vuol dire che ciò che hai fatto andava bene. È perdono perché l'azione non era corretta. Ecco un altro mito. Perdonare è minimizzare o ignorare ciò che è successo. No, questo è chiudere gli occhi. Perdonare include riconoscere la grandezza di ciò che è successo, comprendere le conseguenze e sentire il dolore che deve sentire. Non è minimizzare, ignorare o fare finta di niente. No, include riconoscere, comprendere e sentire. Il perdono non è nemmeno allora reprimere le nostre emozioni o sforzarci di non sentirci feriti. No, le emozioni ci sono. A volte tornano anche dopo il perdono. Succede qualcosa che ti fa ricordare e il dolore torna. Continueremo a soffrire le conseguenze, a volte, per sempre, e fanno male. non significa che non abbiamo perdonato. Sono occasioni per rinnovare quel perdono. Il perdono non è nemmeno, anche un'altra cosa, per forza, riprendere il rapporto. è dove vogliamo provare ad arrivare quasi sempre alla riconciliazione. Ma non sempre è possibile. A volte l'altro è talmente consumato dal male che riprendere il rapporto farà del male a te e all'altro. La riconciliazione è una questione a parte che spesso segue, ma non sempre segue, il perdono. Anche un'altra parentesi. Il perdono non è neanche permettere che le situazioni abusive continuino. Vanno portate alla luce. Vanno denunciate a volte. Non possiamo essere complici col male. Per esempio, se c'è stato un abuso di bambini, l'atteggiamento cristiano non è perdonare, fare finta di niente e permettere che l'abuso continui. Ovviamente. È denunciarlo alle autorità competenti, interrompere l'abuso e permettere che quella persona soffra le conseguenze delle sue azioni e possa cambiare. Ecco una prospettiva molto matura, quella di Martin Luther King, che era cristiano. Il suo approccio non era subiamo il razzismo, accettiamo tutto ciò che ci fanno, nemmeno vendichiamoci con violenza. Era perdonare individui, ma combattere contro il sistema del razzismo. Cercava di sconfiggerlo con la verità, il confronto e l'amore. leggo una frase sua. Così non ho detto al mio popolo liberatevi dal vostro malcontento. Piuttosto ho cercato di dire che questo normale e sano malcontento può essere incanalato in uno sfogo creativo che risulti in un'azione non violenta. Questo metodo è passivo fisicamente, ma fortemente attivo spiritualmente. La resistenza non violenta non cerca di sconfiggere o umiliare l'avversario, ma di vincere la sua amicizia e comprensione. Il fine è la redenzione e la riconciliazione. La conseguenza della non violenza è la creazione dell'ammata comunità, mentre la conseguenza della violenza è una tragica amarezza. È un approccio cristiano che punta al ravvedimento dell'oppressore, in cui si sconfigge il male con il bene, che se tutto finisce bene finisce con la riconciliazione e la creazione di questa amata comunità, di questa buona società. Ecco cosa scrive l'Apostolo Paolo su questo tema. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti gli uomini. non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se tu un amico ha fame, dagli da mangiare, se hai sette, dagli da bere, perché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo, cioè dovrà riflettere, dovrà cambiare. Non lasciarti vincere dal male, ma vincere il male con il bene. Quindi Paolo sta parlando di tre alternative. Lasciarsi vincere dal male, subirlo, permettere che trionfi e non va bene. Vincere il male con il male, cioè con la retribuzione, con il rancore, che non va bene neanche. Ciò che è da difendere è vincere il male con il bene, con la luce, con il confronto, con fare il bene e cercare la pace. Non ci vendichiamo perché sappiamo che a Dio spetta la retribuzione. l'altro soffrirà delle conseguenze. Fa del male perché è sofferente, perché sta male. Dall'altra parte, lottiamo per sconfiggere il male. Cerchiamo la pace, usiamo le parole per benedire e dire la verità invece di maledire. Quindi cos'è il perdono? È verbalizzare il male commesso, sentirlo essere riconosciuto e compreso e lasciarlo andare. È come lasciare la presa e affidare a Dio la giustizia e la retribuzione. È scegliere di non farsi condizionare dal male subito ma dalla guarigione che riceviamo da Cristo. È permettere che il perdono di Dio arrivi a noi e alle persone intorno a noi. Ecco delle definizioni dei due teologi. Prima questo. Perdonare significa rinunciare a rivendicare un torto. Attraverso l'atto del perdono accusiamo il trasgressore di una trasgressione. Perdonare significa infatti riconoscere la colpa e condannarla e concedere al tempo stesso al trasgressore il dono di non trattenere le sue colpe. Il rilascio generoso di un vero debito è il cuore del perdono. Hai visto? Riconosciamo il male ma liberiamo l'altro dal debito. Ecco un'altra frase. Il perdono è il modo con cui Dio ti libera dal tormento e dall'infezione. Quando perdoniamo lo facciamo con uno sforzo cosciente di non aggrapparci più al nostro desiderio di imprigionare le persone che ci hanno ferito. Quello che hanno fatto non è uguale a quello che sono. Quando offri loro compassione ti concentri su di loro come persone non su quello che ti hanno fatto. Separare le persone dal loro errore ha come conseguenza una grande vittoria. Tragicamente tendiamo invece a ingrandire l'importanza della ferita e del torto e a ridurre e a ridurre l'importanza della persona stessa. Quando separiamo la persona dalla trasgressione la trasgressione perde potere. Non condiziona più l'altro il rapporto o noi stessi. La persona viene ridimensionata. Il rapporto può essere ristabilito e noi ci liberiamo dal tormento. Giuseppe sta elaborando tutto questo. Vuole perdonare. Vuole anche vedere il ravvedimento dei fratelli e avere un senso di giustizia. Quindi fa questo ora. Provvede dal grano e restituisce i soldi ai fratelli ma non è in grado ancora di farsi riconoscere. Questi tornano a Canaan. Passano dai mesi forse anni. Quando finisce il grano tornano con il fratellino Beniamino. Agiscono correttamente e riportano il denaro che pensano era stato restituito per sbaglio. Quando Giuseppe vede il fratellino anche lui figlio di Rachele si commuove. Leggo questa parte. Giuseppe alzò gli occhi vide Beniamino suo fratello figlio di sua madre e disse è questo il vostro fratello più giovane di cui mi avete parlato? Poi disse a lui Dio ti sia propizio figlio mio. E Giuseppe si affrontò a uscire perché si era commosso nell'intimo del suo fratello. Cercava un luogo dove piangere e entrò nella sua camera e pianse. Fanno un grande banchetto tutti insieme ma Giuseppe non si rivela ancora. È combattuto. Li mette alla prova. Fa mettere il denaro nel sacco di ciascuno e la coppa d'argento nel sacco di Beniamino. Li fa partire. Manda qualcuno per raggiungerli e accusarli di aver rubato il denaro e la coppa d'argento. Dice l'uomo nella cui mano è stata trovata la coppa lui sarà mio schiavo. E la trovano nel sacco di Beniamino. E qui accade una cosa chiave. Giuda il fratello che aveva avuto l'idea di vendere Giuseppe come schiavo si fa avanti. Racconta del fratello Giuseppe che non c'era più e dice se nostro padre perderà anche Beniamino morirà di tristezza. prendimi al posto suo rimango io come schiavo lascia andare Beniamino e non dare questo dispiacere al nostro padre. In altre parole il traditore è cambiato offre la propria vita al posto della vita del fratellino fa l'opposto di ciò che fece a Giuseppe e qui Giuseppe non ce la fa più a resistere e arriva al perdono. Leggiamo allora Giuseppe non potrà più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe quando egiziano si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo gli egiziani lo udirono e udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli io sono Giuseppe mio padre vive ancora ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli vi prego avvicinatevi a me quelli si avvicinarono ed egli disse io sono Giuseppe vostro fratello che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Giuseppe riesce finalmente piange alza la voce si presenta e pronuncia il peccato commesso dice io sono Giuseppe vostro fratello che voi vendeste perché fosse portato in Egitto non lo ignora lo riconosce nella presenza dei fratelli ma fa anche altro dà voce anche alla prospettiva che aveva acquisito negli anni menziona il tradimento non per accusarli soltanto ma come occasione per offrire parole di guarigione aggiunge questo ma ora non vi rattristate né vi dispiace di avermi venduto perché io fossi portato qui poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita infatti sono due anni che la caristia è nel paese e ce ne saranno altri cinque durante i quali non ci sarà raccolto né mentitura ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché si è conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati non siete dunque voi che mi avete mandato qui ma è Dio Giuseppe riconosce il male ma anche il bene che Dio aveva prodotto da esso il male è stato male ma Dio ha usato quel tradimento per portarlo in Egitto e salvare la vita di migliaia di persone è una dimostrazione della genuinità del suo perdono riesce a rileggere la sua storia con gli occhi di Dio è prova che la guarigione è compiuta nella sua vita quando riusciamo a vedere il bene scaturito da cose brutte direi ho subito questo ma Dio nella sua misericordia ha compiuto quella ora non ho più amarezza nel cuore e sono grato a Dio per tutto quello per tutto quello che ha fatto quella cosa era sbagliata ma oggi non fa più male fa parte della mia storia e sono felice di essere la persona che sono oggi ciò che conta è la conclusione che diamo alla storia se il dolore del passato continua o viene fermato se rimane l'interezza della nostra storia o diventa una parte soltanto di una storia più grande di redenzione noi siamo gli editori della nostra vita possiamo scegliere quale titolo darle è una storia di sconfitta di cose subite e mai superate o è una storia di superamento di trionfo sul male che ha nuovi inizi che porta un bene più grande è ciò che fa Giuseppe si getta il collo di Periamino piange bacia i fratelli e li manda chiamare il padre l'intero clan scende in Egitto Giuseppe rincontra suo padre dopo tutti quegli anni cambia la storia della sua famiglia quella famiglia in guerra con se stessa viene riunita e sanata grazie al perdono Giuseppe sembrava essere una famiglia maledetta con tutti quei peccati tramandati dai padri ai figli dei tradimenti rivalità predilezioni poligamia tutto quello sì quello è vero ma quella storia viene avvolta da una storia più grande di benedizione in fin dei conti questo viene messo in risalto la chiamata di Dio ad Abramo come incontra Giacobbe e ora come conclude la storia con parole di benedizione il padre Giacobbe prima di morire chiama tutti i figli e si rivolge ad ognuno con parole specifiche molto belle leggo un esempio per esempio questo qua benedisse Giuseppe e disse il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a oggi l'angelo che mi ha liberato da ogni male benedica questi ragazzi siano chiamati con il mio nome con il nome dei miei padri Abramo e Isacco e si moltiplichino abbondantemente sulla terra c'è un'enorme carovanna per riportare il corpo di Giacobbe nella terra promessa e seppelirlo insieme ad Abramo Sara Isacco e Lea e seppeliscono il padre tutti insieme è ciò che vogliamo fare anche noi portare la guarigione di Cristo alle nostre famiglie alle nostre relazioni vogliamo fare anche noi parte di questa famiglia permettere che il Dio di Abramo Isacco Giacobbe e Giuseppe benedica le nostre vite e le persone intorno a noi vogliamo perdonare e benedire affrontare il male e pronunciare il bene ecco cosa ti invito a fare questa settimana tre cose fare in modo cose fatte in modo individuale poi nei gruppetti e poi nelle relazioni ok prima cosa faremo in modo individuale ti invito a partire dal tempo prendere un pezzo di carta e elencare tutte le persone che hai da perdonare prega entra nella presenza di Dio decide che è oggi oggi inizio a perdonare e inizia a elencarne uno per uno elenca persone azioni che ti hanno ferito e conseguenze che hai subito i genitori dai parenti cose accadute a scuola ex fidanzati mariti e mogli figli e figli suoceri i peccati dei nostri antenati anche tipo l'orgoglio l'amore del denaro delle apparenze distorsioni sessuali tutto confessa tutto poi prega ancora prova a riportare nuove cose alla mente forse Dio ti farà ricordare nuove cose guarda anche gli esercizi che hai fatto nelle scorse settimane ti daranno degli spunti e ti daranno anche altro alcune delle cose elencate prima ora sembreranno meno importanti o forse già superate ti accorgerai che in poche settimane Dio ha già agito in te confessa anche i tuoi peccati perché noi abbiamo aggiunto del nostro non è vero? abbiamo reagito a cose subite a volte in modi malsani quindi confessa anche tutti i tuoi peccati che nascono da ciò che hai subito abbiamo bisogno del perdono di Dio anche noi dobbiamo perdonare noi stessi anche noi estendere le compassioni a noi puoi perdonare anche Dio se sente che non è stato con te in momenti chiave va bene elenca questo miscurio di cose non avere fretta più scrivi più prospettiva acquisirai più scrivi più guarigione troverai sembrerà che quelle cose usciranno da te che rimarranno sul pezzo di carta come cose al di fuori di te non più dentro potrai rileggere quella lista forse aggiungere altre ancora e iniziare a vedere quelle persone con compassione immaginare cosa hanno subito loro hanno fatto ciò che hanno fatto perché stavano reagendo a delle cose loro questo non rimuove il male commesso ma ci dà compassione ricordiamo che sono umani pensiamo poverini è ciò che faremo individualmente prenderlo sul serio questo passo è chiave ti libererà e poi faremo questo nei gruppetti o con le persone con cui ti stai confrontando vogliamo verbalizzare quei torti quelle conseguenze quei sentimenti non bisogna scendere in dettagli o esporre altre persone è giusto insufficiente affinché il tuo dolore venga espresso riconosciuto e pesato affinché possa iniziare a svanire sarà toccante ascoltare anche gli altri e essere testimoni del perdono di Cristo per loro ascoltare la confessione dei peccati nostri e di altri e dichiarare il perdono di Cristo su tutto quello tutto su tutto ecco un versetto confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti la preghiera del giusto ha una grande efficacia c'è un grande potere nella parola nell'ascolto e nella preghiera gli uni per gli altri chiederemo il perdono di Cristo per noi e per altri dichiareremo che le nostre future famiglie non erediteranno i nostri peccati e sigilleremo questo perdono con un gesto simbolico bruceremo i fogli in cui tutti quei peccati sono elencati Dio usa gli elementi l'acqua per il battesimo il panno e il vino per ricordare la croce di Cristo noi utilizzeremo il fuoco per vedere le fiamme consumare tutte quelle cose e trasformarle in cenere e per poter passare al terzo passo dichiarare il perdono la pace l'amore di Dio il nostro amore nelle nostre famiglie e nelle altre relazioni che vogliamo sanare lo possiamo fare in vari modi può essere per esempio delle conversazioni formali in cui diciamo per esempio papà mamma fratello sono molto riconoscente per quello che mi hai dato A B C pure D D I F grazie lo riconosco apprezzo tanto ma voglio esprimere che da te ho ricevuto anche X e Z mi hanno ferito mi hanno fatto sentire in questo modo oggi lotto contro queste conseguenze ma Dio mi ha salvato Dio mi ha dato un percorso di guarigione quindi oggi voglio dire io ti perdono ti chiedo perdono ti benedico ti voglio bene voglio stringere un rapporto costruttivo con te può essere qualcosa così una conversazione seria in cui la verità viene detta ma con grazia partendo da un cuore che ha sperimentato guarigione può anche essere qualcosa di meno formale forse sentirai che una conversazione così non sarà la cosa più utile in alcune situazioni e vorrai semplicemente coltivare quella relazione e esprimere il tuo amore avendo perdonato con il cuore no? in relazioni in cui non sarebbe sano incontrarsi o cose del lontano passato puoi benedire quelle persone da solo dire amichetta della prima media ti perdono e ti benedico nel nome di Cristo va bene? facciamo questi passi? quanto sono fiero di voi quanto sono fiero di noi è questa la chiesa che dobbiamo essere promotori della pace agente di riconciliazione Gesù può guarire e può usarci per portare guarigione a tanta altra gente preghiamo? signore noi vogliamo essere queste persone noi decidiamo signore di essere queste persone persone che accolgono la tua grazia prima di tutto nelle nostre vite signore vogliamo chiedere perdono per i nostri peccati per i nostri errori per il male che abbiamo fatto signore a noi stessi e ad altri abbi misericordia di noi signore e ti chiediamo anche la forza di riuscire signore a condividere questo perdono con altri a permettere che arrivi signore alle persone che ci hanno cresciuto alle persone con cui siamo cresciuti persone che abbiamo conosciuto in anni passati o oggi dacci la forza signore di ricordare tutto quello sentire ciò che dobbiamo sentire e poter lasciare la presa e affidare tutto quello nelle tue mani e diventare e diventare persone allegre libere leggeri che amano e benedicono vogliamo essere dei figli tuoi e chiediamo il tuo aiuto per vivere e mettere tutto questo in pratica signore tu sei il nostro signore vogliamo seguire la tua strada e quindi ti benediciamo signore ti ringraziamo per il perdono dato da Cristo a noi e ad altri e preghiamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen